Musica Ho con me gli estremi della situazione, eh, dovendo fare una cosa seria, meglio per lei, meglio per me. Dunque, eccoci qua. Signor Marchese, lei è l'amante della signora... Ma no, scusi! Eh, così! Eh, vede, si blocca fin dalla prima domanda. Eh, certo, scusi, eh, ma... Non è vero? Dice che non è vero? E allora mi scusi, signor Marchese, le ho detto che ho la mia dignità, non potrei prestarmi a una triste e umiliante commedia. Ma come, io credo, anzi, così come vuol fare. No, si sbaglia. La mia dignità, quella che può essere, posso salvarla solamente a patto che le parli con me come con la sua stessa coscienza. Dopo la felice esperienza di Filomena Marturano, Liliana Cavani torna a dirigere Geppe Gleieses in un nuovo capolavoro, quello di Pirandello del piacere e dell'onestà. Com'è stato di tornare a lavorare con una maestra del cinema e adesso anche del teatro, come la Cavani? Beh, Liliana, in verità, certo, maestra del teatro lo sta diventando a pieno titolo. Oltre a essere, certamente, la più grande regista italiana di cinema vivente, forse del mondo. È stato molto piacevole, perciò abbiamo deciso di continuare a lavorare insieme. Io poi faccio il mio mestiere, quello di direttore artistico di Capo Comico, oltre che d'attore. Per cui le ho messo a disposizione certe cose, certi ingredienti e lei li ha cucinati al meglio. E poi, naturalmente, c'è un continuo scambio, perché lei con straordinaria umiltà dice, vabbè, ma io il teatro non lo conosco, però ho imparato a conoscerlo bene. Da Domenico Soriano ad Angelo Baldovino, che percorso ha fatto come attore per interpretare questo personaggio? Innanzitutto, che percorso ho fatto come uomo, perché il salto è grosso. Siccome mi porto addosso buona parte dei miei personaggi, ho questo difetto, questo pregio forse, per cui Baldovino sono diventato capzioso, taglio il capello in quattro, sono abbastanza noioso, perché com'era scapocchione divertente e divertito, un simpatico farabutto Domenico Soriano, questo è un uomo dolente, che ha vissuto una vita non facile, nel vizio, però a volte nel mistero. Pirandello lo ha definito, inizia come una maschera grottesca e finisce come un volto rigato dalle lacrime, che è una definizione bellissima ed è assolutamente vero, risponde assolutamente a quello che è. Poi questa commenta è venuta come un vero e proprio thriller, si segue in un'ora e quaranta, che passano via, credo, molto rapidamente, e naturalmente in più c'è la mostruosa capacità di dialogo, espressa soprattutto in Baldovino, nel mio personaggio, di Pirandello, il più grande autore del Novecento Italiano, con Edoardo direi, però qui si arriva a una profondità diversa di dialogo. Quella è una commedia probabilmente più profonda per tematica, anche perché è un capolavoro assoluto, credo che lo sia anche questo. Tra le altre cose io sono qua alla Pergola, da 38 anni della mia prima volta, e sono ancora un ragazzo per il teatro, quindi debuttai qua a 25 anni, io non ne ho 63, ma devo dire che alla Pergola Ruggero Ruggeri, cento anni fa esattamente, fece il piacere dell'onestà. Ecco, proprio nel 18. Ecco, entrambi i personaggi si può dire che hanno una sorta di risveglio della propria coscienza, proprio attraverso una donna e attraverso l'amore per una donna. È bravo, è vero, è un'osservazione sottile e molto reale. In realtà lui si risveglia anche all'amore che pensava di non poter provare Baldovino. Forse diceva, ma Liliana, forse è la prima volta che ama veramente. E insospettabilmente, dopo essere stato accanto a lei dieci mesi senza nemmeno ardire di guardarla, come dice lui, stando qua accanto a lei senza nemmeno ardire di guardarla. Parole bellissime, è una cosa bellissima, lo scopre dentro di sé, e poi prende la decisione di sfidare il mondo e di andare via con questa donna che doveva essere sua moglie solo a parole, ma che poi la diventerà nei fatti. E quindi il farabutto Baldovino in realtà si scoprirà essere invece un uomo di principio, più di tanti altri. Lo che dicevo prima è molto vero, cioè non sappiamo quale sia il passato di Baldovino. Infatti a un certo punto il marchese Fabio Colli chiede, ma che fa, Bara, Ruba, che fa? No, ha giocato, certamente si sa che giocava, poi probabilmente aveva altri vizi. Però quando io parlo del mio passato dico tante cose tristi, notturne del mio passato. Per capirlo bene bisogna pensare che Pirandello era un esoterico, mi piaceva spesso mantenere i suoi personaggi avvolti in un bozzolo di mistero. Era teosofista, era misterico, e tutto questo suo cotello porta in questo personaggio. È molto bello farlo, molto complesso, molto difficile, più difficile di Domenico Soriano. Io probabilmente, come hanno scritto, sono Domenico Soriano. Non mi piace né femmine, come si diceva, ne ho avute tante, ne ho ancora fortunatamente. Ho amato i cavalli, sono stato a Londra, a Parigi, esattamente come i Misoriano. Però sono un grande lavoratore, mentre lui era uno scapocchione assoluto. Baldovino invece è tutt'altro tempra di uomo, un altro tipo di uomo. Però va là per distruggere, come poi accade in Filumena, per distruggere delle convenzioni borghesi, per cui fa capire che la finzione non serve mai a nulla, non porta mai a nessun risultato. E' stato scritto cento anni fa, quando veramente avere un bambino fuori dal matrimonio era un delitto. E lui affronta il tema con grande sagacia e fa quello che poi ha sempre fatto, quasi tutte le sue commedie, cioè sbantellare le convenzioni sociali. E ci riesce, benissimo. E ora mi scusi, signor Marchese, ma devo toccare un altro tasto molto delicato. Mia moglie ne è separato. Per tolti, lo so, lei è un perfetto gentiluomo, ma chi non è capace di farne è destinato a riceverlo. E ha trovato qui una consolazione. Ma la vita, trista o usuraia, si fa pagare quell'uno di bene che dà con cento di noi e di spiaceri. Purtroppo... Eh, lo so. Bisogna che lei sconti la sua consolazione, signor Marchese. Lei ha davanti l'ombra minacciosa di un protesto senza dilazione. Vengo io a mettere una firma da vallo e ad assumermi di pagare la cambiata. Lei non può credere, signor Marchese, quanto piacere mi faccia questa vendetta che posso prendermi nei confronti della società che nega ogni credito alla mia firma. Dire ecco qua.